buongiorno ma non c'era truccatrice non c'era bisogno per lei, è già bello così questa comunque la registriamo e la teniamo, grazie una volta ogni tanto fa piacere signor Massimo, ci ricordi come ha vissuto il momento della diagnosi? il momento della diagnosi era più o meno prevedibile perché dopo il ricovero di luglio che doveva essere un ospital oppure tre giorni sono diventati 17 con la racchicentesi a casa e quindi c'era il sospetto alla fine di agosto arrivò appunto il decreto e sclerosi multipla va bene, l'ho vissuto un po' come un pugno forte nello stomaco e poi mi sono detto vabbè, c'è andremo avanti può essere questo ostacolo sulla mia strada della vita un grosso masso sarà difficile scavalcarlo però a fatica ci giro intorno e arrivo alle mete che già mi ero prefissato l'impatto comunque del primo acchito è stato cos'è un momento di sfogo di pianto di 5 minuti e poi basta, è stata la devo affrontare ci vado avanti la voglio affrontare più che la devo e quindi qual è la sua esperienza nell'affrontare questa patologia? la mia esperienza è stata quella di iniziare dei cicli di terapia con interferone per 24 mesi però purtroppo abbiamo visto che la malattia non si fermava anzi continuava nel suo esordio ho avuto problemi di incontinenze ho avuto problemi di spasticità eccetera eccetera e alla fine si è arrivati a varie proposte di arrivare a un farmaco abbastanza potente che almeno evitasse l'insolvenza di altri terapia dopo cicli di cortisone abbiamo deciso appunto di optare per questo anche con i suoi aspetti negativi perché fa bene da una parte e poi dall'altra però si è deciso appunto di continuare ad affrontare questo durante questo cammino io devo ringraziare che non ho il problema di essere su una sedia a rotelle di essere fermo con la fatica con i miei problemi perché una volta facevo i metri adesso dopo i 200 ho un po' di... avevo problemi del dolore ho iniziato col dolore e devo dire che proprio come il gatto che si arrampica sul vetro perché faceva male ho iniziato, mi ricorderò sempre è stato un primo dell'anno forse del 2004 col dolore e che non si riusciva nonostante la fisioterapia eccetera si doveva fare qualcosa e che sono stato indirizzato anche sempre qui all'ospedale di Garbagnate al centro ABBA di terapia del dolore e lì hanno detto beh forse sono le ernie forse una cosa e l'altra e non si riusciva a intervenire come metterci mano nonostante anche magari le prime terapie dagli opioide eccetera ma nulla da fare i dolori erano presenti al che si sono un po' scervellati e gira e rigira anche perché ho sempre detto dall'inizio che mi offro come cricettino bianco visto che non ho problemi di solito ma per sperimentare per portare avanti per fare qualcosa perché è giusto che si possa offrire anche per gli altri e senza neanche sapere cosa si andava incontro mi hanno fatto la proposta di mettere uno stimolatore praticamente sono degli elettrodi messi sulla colonna collegati a una batteria che intervenendo adesso è stato sostituito non ho messo quello con la radiofrequenza ma prima intercettava il segnale che era sinistrato che arrivava dagli arti e prima di arrivare al cervello si trovava qualcosa perché qui c'era veniva in giro a cercare come quello che non c'è nessuno e dovesse fermare il dolore e sembrerà strano ma dopo aver messo questo stimolatore io ho fatto un recupero molto molto è vero sono rimasti altri problemi perché la spasticità un po' è rimasta sono rimasti non corro non faccio i chilometri però devo dire che il dolore è stato eliminato quasi nella totalità la spasticità ha avuto il suo recupero anche il discorso del sonno della fatica ha avuto un recupero è vero che poi recuperi e fai però la sera ti arriva il conto e quindi devi però mi ha fatto andare avanti dicendo è vero la sclerose ti dà dei limiti però se ti impunti ad agio d'agio riesci a trovare anche questo per superarlo non non fai il centrometrista non mi interessa però quando si dice migliorare la qualità della vita tu lo scopri in quel momento cioè anche il discorso di starsi al mattino e dire non ho il dolore che è bello e comunque è una bella giornata è l'inizio della nuova giornata è bello perché ti porti avanti è vero che c'è lo sconforto che dici insomma faccio fatica ci metto ci metto il mio tempo abito da solo sono da solo ora che faccio colazione che faccio tutta la tua lettatura in bagno ci vuole il mio tempo ho le mie difficoltà perché quello che per la gente riesce normale io ho i miei limiti però io ce la faccio adagio adagio devo incontrarmi alle 8 io inizio alle 6 6-9 5 e mezza del mattino però ce la faccio ma io porto avanti succede qualcosa ah ma non mi scoraggia è natino però riprendo e porto avanti e c'è da dire stimolatore che prima adesso non è con la vibrazione ti dava la scossa anche ogni tanto e questo perché oh muoviti cioè quando ci si siede è il momento in cui piangersi sopra e lamentarsi non ce la fai più invece se dici oh hai preso l'euro stimolazione ti muovi e allora riesci a fare qualcosa ecco anche il mio impegno magari anche nel volontariato in quello che faccio o anche l'attività di insegnare ai ragazzi a scuola sono soltanto i miei colleghi cosa ho gli alunni non hanno mai sospettato niente questo è non è perché io voglia fare la vittima per dire che comunque si può andare avanti e non è che come si diceva prima il trucco nascondi certe cose e poi c'è l'illusione è vero le mie amore le belle da fiora ma da dentro e prima devi essere anche dentro positivo quando c'è dentro riesci a dare all'interno e all'esterno i proporti per fare questo però bisogna anche ringraziare una struttura che ti sta alle spalle perché quando tu arrivi in un centro dove senti che da una famiglia ritorni in un'altra famiglia c'è quel calore umano tu non sei nel numero della matricola eccetera sei il massimo sei il castelnovo sia per il personale infermieristico per chi collabora c'è la battuta c'è l'insieme c'è il medico anche sempre disponibile perché tu puoi mandargli un sms che nel giro della giornata ti risponde c'è un qualcosa che e poi io sono un pochettino un cattivello perché utilizzo anche un discorso legato a un'associazione che segue la sclerosi multipla una diagnosi una prospettiva eccetera poi la confronto anche con altri e trovi sempre questa anzi tante volte come anche lo stesso si meravigliano quelli della societazione per dire oh non sapevamo che comunque ho questo processo interessante ecco e offrire questo non è fare pubblicità è per dire che comunque si può andare avanti comunque ci sono non è uguale per tutti come sia i farmaci e come anche il tipo perché come mi dicono ogni effetto negativo mi capita di un se tu vedi il bugiardino a me capitano sempre non mi capita mai col supernalotto ma mi capita con gli effetti collaterali di una di una terapia però vai avanti mi succede ci può essere anche la giornata negativa esiste io vivo da solo ripeto e forse non ho poi il confronto con una famiglia con dei figli di difficoltà però quando arrivi al termine della giornata non guardare la parte c'è purtroppo c'è c'è sempre per tutto però guarda anche i pro quando si rifiniscono diversamente abili ma su che scala su che cosa non sei abile ma sei abile da un'altra parte il progresso che fa una persona che migliora la qualità della vita o la progressiva è diversa cioè vediamo anche la parte positiva c'è sempre è perché non siamo capaci magari facciamo fatica a vederla magari il pianto ti offusca la vista quando ci asciughiamo gli occhi però poi ci vediamo di più da noi risplende sempre l'arcobaleno non fosse parlato troppo il dubbio è che lei fa questo di mestiere non è la prima volta che fa un interrogista ci dica la verità no io non lo faccio di mestiere io sono io prima facevo elettricista nel cammino dalla mia vita poi ho deciso di essere diacono permanente e già questo ti calma un attimino perché ti fa capire anche l'amore più grande di quello che c'è su in alto che come ti ha preso nonostante io dico sempre l'involucro che mi ha preso un rottame così il signore non potevi prendere vabbè comunque è la bellezza anche di poter essere nel campo ministeriale in un ospedale però tante volte io mi sono emozionato anche perché ho fatto il giro in quelli che fanno la dialisi e a me veniva la goccia di lacrima perché e ti danno più carica di quello che è comunque in giro e confrontandosi perché tu non guardi più l'altro dal let ma lo guardi sulla stessa linea sai cosa vuol dire il dolore sai cosa vuol dire la sofferenza anche quando sei ricoverato però se la vivi in un certo modo è diversa e non sono di me ho fatto qualche intervista quando facciamo la richiesta dei farmaci eccetera sui sondaggi ma non lo faccio di mestiere cioè facevo elettricista sono collaboratore e sono insegnante di religione in un centro professionale con i ragazzi che mi ha dato tantissimo devo dire che mi si è chiusa una finestra nella vita ma si è aperta una porta dall'altra parte anche di questo l'attività lavorativa ha cambiato però non mi ha mai lasciato lo zero cioè io non ho mai avuto il buio adesso cosa faccio non so cosa fare e mi sono state aperte prospettive diverse e quello di buttarsi dentro e comunque quando uno si lancia da nero ha sempre il paracadute ha la paura di scendere dell'impatto però il paracadute si apre e c'è quello di sicurezza e anche questo cioè hai paura c'è la fatica però è come se avesse qualcuno di fianco c'è il discorso appunto di una struttura sanitaria ma anche delle amicizie delle persone che ti circondano che comunque capiscono questo ti sono vicine ed è importante le amicizie non le devi interrompere non sei la vittima o mamma mia sei sempre l'amico sei la persona non devi il gara sembra quasi che sappia ecco il brutto è questo perché quando magari vai da qualche medico che guardi lo sclerosi molto subito il pronto soccorso è quasi come non deve essere la lebra invece è qualcosa che se la conosci la eviti sì però se la conosci non ti mangia non ti morde se la sai trattare è come se uno dovesse pescare il barracuda eccetera ma se lo sai cucinare bene è buono io non sono capace però e quindi quale consiglio vuole dare alle persone che come lei soffrono di questa malattia di guardare in alto e di essere contenti di vivere e di sperimentare e comunque ogni volta anche se è difficile non è facile io ho appena di cambiare ancora stimolato te lo fa nuovamente viva poi magari quando ti non è facile senti il dolore però dopo mia mamma diceva via il dolore c'ha l'amore cioè dopo il dolore del parto c'è l'amore del vedere la creatura ecco diciamo questo dopo la difficoltà la sofferenza del momento c'è comunque la gioia di la terapia dobbiamo essere una volta ogni tanto dover andare in ospedale fare il momento del terremoto delle persone che comunque so di essere ripeti gestisce in un certo modo però dopo di quello è come la ricarica uno un atleta si prepara per arrivare a e anche noi abbiamo bisogno di questo per migliorare per arrivare al straguardo la fatica che fanno gli atleti e tutto il resto anche noi siamo in competizione in competizione con la screnosi multipla sì una volta ricordo con gli amici quando si faceva la terapia eccetera che non è la bellezza non abbiamo una screnosi noi abbiamo la multipla con tante cose con tante varianti però c'è una variante di questo boom c'è quell'altro c'è si tampona in un modo o nell'altro siamo pronti per la screnosi multipla visita il sito e iscriviti ai nostri canali e tu sei up